Là, dovrai usare l'ago delle sorelline per prosciugare Fontaine dall'Adam. È l'unico modo per sconfiggerlo. Fontaine è vicino. Stai per raggiungerlo! Che cosa spesso? Stai per raggiungerlo! Fontaine, aspetta di sopra. Da qui non potrai fare marce indietro. Fai in modo di essere pronto ad affrontarlo prima di procedere. Ok. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!